Di Felice Caricchi, un grande brigante, appassionato delle tue Sicilie, un grande appassionato. Quanti persone siete stati stamattina presenti? Tutti quanti, come stiamo? Tutti quanti, tutti? Per lo meno una ventina di persone penso che era la cosa. Felice meritava? Sì, meritava. Tantissimo, tantissimo. Era semplice, era buona, amorevole verso tutti, verso la famiglia, una persona valente per bene. Quindi venire ad onorare Felice era un dovere. Lo meritava. Lo meritava. Il delegato regionale di una morte, diciamo improvvisa, ma meno che improvvisa, di Felice Caricchi, che nella sua semplicità è stato uno che ha dato. E' stato un uomo generoso è stato un uomo generoso e sempre a servizio degli altri, vero cavaliere, non aveva bisogno di titoli, era stato il vero cavaliere. Ma lui originario era di Visciano? Ma lui originario era di Visciano? Sì, di Visciano, sì. Di Visciano, sì. Di Visciano e abitava a Nola? La madre era di Nola, sì. La madre era di Nola. Il padre era di Visciano. Ma anche la moglie era morta. La moglie era di Nola. Era anche... Anche lei purtroppo è andata davanti al signore. Ma non è morto di Covid? No, no, sono morti purtroppo di brutte malattie. Di brutte malattie. No, Felice era molto vicino alla comunità Nola e a tutti. E aveva dei grandi reali. E anche cultura storica, perché lui, tra l'altro, questo lo voglio dire che è importante, nel 2004-2005 stava insieme a noi fuori al Duomo di Napoli, perché noi contestammo l'ingresso dei Savoia, che avevano occupato il nostro regno delle due Sicilie. E lui stava vestito da brigante e a Nola c'era stato un grande brigante, come si chiamava di... Abbate e me ne ho? No, no, no. Lo chiamavano Ucarapariel, che poi sta anche fotografato quando l'hanno fucilato. Sì. C'era con bersagliere. E noi lo chiamavamo Ucarapariel perché lui era il brigante Nolano. È il brigante Nolano. Quindi Felice... Felice, nella sua semplicità, è un personaggio eccezionato. Quindi stamattina vi siete ritrovati tutti. Tutti quanti insieme. Capoglieri Costantiniani e amici Borbonici. No, Borbonici. È brigante. È brigante. È brigante. È brigante. C'eravate tutti. Sì. Va bene. Felice. Riposo ai baci. Grazie.